Ok, a completamento degli incontri sullo sculpting volevo solo fare alcune note su come texturizzare il nostro oggetto quindi per farlo prendiamo un cubo, gli applichiamo un po' di sculpting quindi andiamo in sculpting, ricava nuova mesh, 0.01, remesh a questo punto facciamo un pochino di piccole modifiche e facciamo dei piccoli ghirigori questi ghirigori adesso sono specchiati dall'altra parte e qui ci mettiamo un più e abbiamo fatto questa cosa qua se andiamo a vedere le statistiche ci sono un po' di vertici quindi la primissima cosa è di andare nei modificatori e di decimarlo 0.01 in modo tale da ottenere un numero di vertici decente 2426 applichiamo e ci troviamo adesso con questa struttura vedete che i vertici li ha fatti solo dove ho inciso ora per applicare una texture a questo oggetto occorre seguire un po' quello che ci dice la barra in alto quindi andiamo innanzitutto sul texture painting texture painting perché dobbiamo disegnare dei colori e per disegnare dei colori dobbiamo avere una texture quindi la prima cosa che facciamo è di fare una nuova la chiamiamo texture togliamo la trasparenza e questa sarà una texture che è tutta nera come vedete non è applicata al nostro cubo per applicarla occorre andare nella modalità shading e poi applicare questa texture però prima facciamo un UV map di questo cubo quindi per fare l'UV map occorre selezionare tutto il cubo in modifica fare un unwrap e facciamo una proiezione intelligente la proiezione intelligente ricordatevi di mettere il tick qua ed eventualmente potete anche lasciarla così però alcuni testi suggeriscono di aumentare questo numero cosa succede facendo questa cosa? vedete che si ha la proiezione di tutti i punti su un diciamo sull'unpack sull'unwrap che ci permetterà a questo punto di poterlo associare e di poterci dipingere sopra se non si fa l'UV map non si riesce a lavorarci sopra allora adesso prima ancora di fare la texture painting andiamo in shading in shading dobbiamo aggiungere la texture a questo schema che c'è qua in fondo si fa aggiungi texture texture immagine la si mette si seleziona la texture che abbiamo appena definito e si collega il colore vedete che ci ha preso effettivamente quella texture che era tutta nera per vederla la selezioniamo qua vedete è tutta nera ora a questo punto siamo pronti per dipingerlo quindi per dipingerlo cosa facciamo? andiamo in modalità texture painting che è questa ad esempio ci selezioniamo un pennello e tra l'altro i pennelli qui si comportano in maniera similare allo sculpting nel senso che possiamo fare F per aprirlo stringerlo quindi magari lo facciamo un filo più stretto scegliamo un colore verde e poi andiamo vedete a spruzzare come se avessimo come se avessimo praticamente una specie di spruzzatore vedete che man mano che io disegno qua mi compare la texture sulla sinistra diventa praticamente modificata ecco il colore con le modifiche che sto facendo qui compaiono dei pezzi che mi sono evidentemente sfuggiti quindi qui c'è la possibilità di dovrebbe esserci la possibilità di ammorbidire per togliere e così per rimettere evidentemente c'è un difettino nel programma perché mi li fa comparire comunque scegliete i colori quindi scegliete il modo in cui volete dipingere il vostro il vostro oggetto e anche qua facciamo in rosso facciamo in rosso tutta questa parte qua ctrl z se per caso sbagliate quindi dipingete e passate per avere gli effetti che volete quindi dipingiamo anche questa parte qua quando avete finito quindi c'è ancora questo da dipingere insomma dipingete quello che volete vedete che compariranno la texture risulterà tutta manipolata qua sulla sinistra se fate tab e insendate in modalità oggetto vedete la texture esattamente come è stata riportata quindi pezzi rossi pezzi blu pezzi neri questa texture la potete salvare quindi fate image salva come e la salvate ad esempio sotto texture.png e se a questo punto questo oggettino scolpito lo esportate quindi fate esporta collada e lo esportate sempre lì e lo chiamate vabbè in questo caso untitled cioè lui solo selezione credo che tutto sia a posto fate esporta con l'ada e a questo punto dovreste poterlo importare in open sim se non ve lo fa importare se vedete che non arriva in open sim vuol dire che non arriva la texture ad esempio dovete importare la texture separatamente ma se noi andiamo adesso in firestorm e mentre sono in firestorm adesso faccio l'import di questo oggettino quindi entriamo abbiamo la solita tesina per entrare che può essere un filo lenta un attimo di pazienza ok eccoci dentro e a questo punto facciamo il costruisci carica modello lo prendiamo in questo caso credo che l'ho messo nel qui no lo cerchiamo perché io non trovo mai niente come il punto dae che è ok quindi c untitled dae io uso questo everything che mi trova le cose ovunque siano faccio l'accaricamento di questo vedete che è il nostro sculpted se siamo fortunati quando dico includi texture dovrebbe farmi vedere la texture in realtà non me l'ha fatta vedere quindi non l'ha presa ma noi questo oggetto sculpted facciamo che lo riprendiamo quindi facciamo sculpted colorato facciamo calcoliamo pesi lo carichiamo questo sculpted colorato lo rizziamo vedete che abbiamo ah no tra l'altro in realtà i colori li ha presi li ha presi perché li ha presi perché erano nella stessa cartella quindi vedete che ha preso i colori ha preso la texture e quindi abbiamo il nostro oggetto effettivamente messo a posto una cosa sola che eventualmente possiamo verificare è di torniamo nel modeling questo e verifichiamo se effettivamente ha ragione che ci sono delle normali sbagliate no le normali sono giuste quindi era un piccolo difetto di chi aveva lui eventualmente quella texture un po' stupidina la correggete eventualmente a mano per capire qual è il difetto che fa esempio io non mi chiaro perché abbia sforato lì eventualmente fate anche un altro tipo di unwrap ma comunque la teoria è questa è tutto alla prossima